Il gruppo Quartet produce le tre linee, la linea Mast, che è una collezione ultramoderna, molto fashion, attualissima come linea, la linea Tre Cisalotti, che è la nostra linea storica, dove fa un prodotto abbastanza classico, un classico comunque attuale, la linea Dedica Contract, perché anche lì facciamo tutta la linea di contract alberghiero, e la linea Epoch Bayegon-Fustenberg. Ai 50 anni dell'anniversario dei saloni del mobile, anche la Maison-Fustenberg non poteva mancare. Quest'anno quindi siamo presenti con un concetto completamente nuovo e totale di quella che è la home collection della Maison-Fustenberg. Quindi ci presentiamo con il total look nella casa, così come nella moda, dove oramai i grossi stilisti si presentano dall'accessorio all'abbigliamento, agli occhiali, ai profumi, così anche noi nella casa. Quest'anno ci siamo presentati con un concetto che abbraccia qualsiasi campo nel settore casa, proprio per dare uno spazio infinito in quello che è l'idea della Maison. L'idea della Maison è quella del classico rivisitato. C'è praticamente un classico che richiama quelli che sono i concetti di una volta, quindi le lavorazioni artigianali di una volta, fatte esclusivamente in Italia. Quindi quello che noi vogliamo salvaguardare, visto il momento un po' contingente del mercato, è quello di salvare il made in Italy e soprattutto il lusso, perché oramai la massificazione sta divorando quello che è il mercato.